benissimo prossima partita genoa juve curiosità vediamo un attimino i precedenti perché ha senso unico juve che ha sempre vinto juventus che ha fatto più di un gol genoa che non è riuscito a fare nemmeno un gol negli ultimi due precedenti un una partita non l'abbiamo gestita noi questo 2 a 0 è un risultato reale quanto successo appunto nella realtà dove la juve ha battuto il genoa 2 a 0 proprio il 5 dicembre 2021 noi invece a maggio in una partita che nella realtà deve ancora giocarsi abbiamo perso per 3 a 0 con la tripletta di uno strepitoso clamoroso dusan vlaovic ancora la juventus in questo save ma mi dice infortunato forse indisponibile anche se tra sette giorni non si sa infortunio all'anca quindi no non gioca vlaovic in dubbio scesni noi invece abbiamo kaldara che come detto nell'episodio precedente rottura del tendineo che la stagione è finita e credo anche la sua esperienza al genoa sia si possa concludere qui con largo anticipo siamo nel vivo del calciomercato facciamo un attimo un recap chi può arrivare chi può andar via friend group ci sono delle offerte dall'inghilterra noi accettiamo quella di 4 milioni abbiamo anche un ultimato ma lo spezia se vuole friend group deve pagare queste cifre 4 milioni è l'offerta che abbiamo accettato sia da parte del laser sia quella della stone villa ma l'ansar potrebbe essere un nuovo difensore del genua cifre condizioni ottime ragazzi ottime ottimo ottimo anche perché contratto del giocatore come vedete ben sotto al milione cosa non scontata per un giocatore che comunque proviene dall'inghilterra oltre al recap di mercato guardiamo cosa abbiamo fatto nello scorso episodio buone prestazioni nonostante le sconfitte contro atalanta lazio inter naturalmente sono state due le sconfitte lazio inter male malissimo contro il bologna nella partita dove pensavamo di poter prendere facilmente i tre punti perché non era scontato fare tre punti con l'atalanta e non è mai scontato battere nell'azione inter però qualche certezza in più sembrava esserci contro il bologna invece assolutamente no non abbiamo fatti i conti con un super reparto offensivo del bologna cavolo commentiamo un attimino avevano pucchi arnautovic rafigna già questi tre tu dici e che insieme fa strano il bollito che piace perché pucchi arnautovic hanno superato i 30 rafigna forse li ha appena compiuti esattamente e quindi esperienza qualità un bologna che ci ha messo in crisi la partita a livello di conclusione è stata abbastanza equilibrata però c'è una differenza c'è uno scarto di tre gol mica da ridere e quindi la differenza del nostro reparto offensivo confrontato a loro che insomma ha permesso a questa squadra di vincere e trovare tre punti tre punti non sarà facile tenerli con la juve però mi aspetto tre punti con la selenitana mi aspetto una buona prova col napoli e anche una buona prova con la fiorentina per chiudere il mese di gennaio sperando con più punti possibili. tre gruppo vallastonvilla e quindi alle casse del genua entrano 4 milioni non so se ok tecnicamente ora dovrebbe essere entrati 4 milioni esattamente non esattamente 4 ma siamo lì comunque 442 di balaken rabiot fabian 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 ruiz abbiamo perso signori pulisic uluseschi alexandron di cadelit danilo per in importa l'ex importa l'ex del genua quindi confermata l'assenza sia da parte di scesni e poi quella di vlaovic creano molto un expected gol veramente molto alto quello da parte della juve 0 51 in più della media della serie a creano molto ma segnano anche tanto perché anche qui la media è più alta rispetto a quella delle altre squadre della serie a attenzione contrasti vinti 69 per cento 69 per cento pardon 67 91 è il valore della media della serie a e questo però la juve un po meno però comunque imparmo il valore abbastanza alto tiri in porta un po sotto non tantissimi quindi una juve anche abbastanza imprecisa però tiri a partita ne tendono ne ne provano tanti del 5 4 in più rispetto alla media delle altre squadre allora partiamo da equilibrata poi vedremo nel corso della partita cosa fare possiamo andare in campo direi di sì e allora si gioca e quindi genua juve oggi sono partite difficili complicate non scontato non sarà facile guadagnare punti ma dobbiamo dobbiamo perché dobbiamo migliorare questa classifica siamo distanti dalla zona di attocessione non proprio 5 punti non sono pochi però dobbiamo aumentare questo distacco bravo kofod fabian rabio i bala culoses chi ancora questa volta prende il legno ma sui contrasti non fare nulla né i contrasti aggressivi né il contrario però questo sarà dipenderà poi molto dal giocatore come tenderà ad affrontare l'avversario fabian moise ken i bala tiro che viene deviato ancora culoseschi poi danilo bravo cambiaso un coraggio non mi non mi piacciono quegli interventi perché li stiamo provando un po troppo ancora cambiaso questa volta bel intervento pulito preciso però non si riesce a ripartire kofod andersen calcio pulizioni zona interessantissima prende in pieno la barriera diavara è bello diavara signori che visione che lancio kofod andersen temporeggia poi serve jorgensen provo ad avanzare la mezzalla del genoa si appoggia rosa sa ancora il dialogo con jorgensen andersen tiene palla la pressione della juve poi vede portanova portanova prova il sinistro salva per in d'elite traversa della juventus siamo a due legni volo di bala palla in mezzo rabbio non prende il pallone di testa attenzione perché potrebbe nascere un interessante contro pede per il genoa perché il pallone c'è la kelvin yeboah che può partire ma non è bravo poi indica interviene e poi all'indietro per per in maximovic ken vince il duello maximovic che può ripartire con calma il genoa rosas che trova nello spazio yeboah palla in mezzo per diavara 1 a 0 genoa al minuto 33 amadu diavara in vantaggio il grifone bene così male la juve aggressivo il genoa bravissimo rosas nel trovare nello spazio yeboah inserito perfettamente poi palla all'indietro per diavara piawek portanova ancora una volta portanova contro per in tenta addirittura il pallonetto danilo paolo di bala elite cambio lato zona di pulisic lexandro trova moise ken dietro per pulisic il pallone sul secondo palo colpisce trova il gol paolo di bala 1 a 1 vicario sar cambiaso primo quarto d'ora contro la juventus diavara cambiaso biawek tiro palla sulla sinistra cambiaso l'appoggio poi ad andersen ancora cambiaso dialogo con il fulcro poi diavara puzic sbaglia passaggio in verticale allora juve che può ripartire ma c'è subito la pressione del genoa ottima allora yeboah genoa può avanzare yeboah serve biawek provato il sinistro di prima verso la porta quindi bravo sar vince il duello vabbè contro di bala insomma era abbastanza scontato biawek cambiaso vediamo se inventa lo fa e lo fa molto bene yeboah un controllo un po così gulixen gulixen 2 a 1 dalla panchina gulixen arthur retro passaggio per perin poi alexandro pulisic prosegue poi la corsa di paolo di bala vediamo se riusciamo a chiuderlo di bala lo accompagniamo sull'esterno ma il cross per bernardeschi va a buon fine ma non finalizza l'ex viola no no mi sono chiuso anzi in realtà in realtà no juarez vicario vicario maximovic pulixen pusic poi diavara biawek dietro per sar poi ancora scambio corto con maximovic ancora dalle parti di anderson sar di nuovo giro palla del genoa la juventus che non pressa il grifone che ne approfitta ma attenzione perché la juve occupa bene gli spazi poi meno male che ci appoggiamo a cambiaso diavara biawek anderson legalmente per pusic yeboah yeboah ancora biawek azione dell'anno stava per venire fuori gol dell'anno del genoa invece no 2 a 1 salva perin fabian suarez bernardeschi polisic miracolo di vicario ma era fuorigioco tutto fermo e la partita può finire quello di ferrari silgenoa batte la juve 2 a 1 finisce qui finisce qui una partita che forse era più corretto diciamo il pareggio ma si gode tantissimo si gode lo stesso è stato bellissimo inizia benissimo l'episodio e finalmente riusciamo a segnare contro la juve e soprattutto batterla juve allora il dribble di più lo eviterei lida rosa stanto abbiamo comunque la fronte alla difesa palla al piede che oltretutto sincero io lo toglierei anche io lo toglierei anche perché è una forzatura si è una forzatura e basta togliamolo bene 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 tocca a noi la classifica cerchiamo di non guardarla la guarderemo poi bene più più avanti adesso pensiamo un attimo alla salernitana la salernitana di diuric accanto è un fulcro vero perché giocatore di quasi due metri non si muove ma fa muovere i compagni ha un ottimo controllo palla ha un'ottima massima elevazione colpi di testa qui nel duello contro questo giocatore è difficile vincerlo però possiamo sicuramente lavorare sulle sue carenze fisiche livello di accelerazione velocità per pressarlo per anticiparlo per anche secondo me adottare una difesa allora la difesa alta non lo so non l'alzerai più di tanto perché comunque attenzione perché con una palla aerea questo vince su qualsiasi diciamo nostro difensore non hanno comunque dei velocisti come alle invertite e anche come attaccante esterno però ma di sicuro è una salernitana che si può anticipare molto Juric pressing assolutamente marcatura stretta direi mai non ha senso mettergli una marcatura stretta livello di pressing possiamo essere un attimino più aggressivi come va con questo nuovo modulo lo scopriremo oggi scopriremo in questa partita un cambiamento che c'è stato non più la frontale la difesa per l'alpiede non più forzare quindi di provare a saltare per forza di cose l'avversario ma non mettere nulla e quindi c'è curiosità poi vediamo anche se l'abbiamo studiata bene se abbiamo preso le giuste contromisure su Juric e speriamo di ottenere la seconda vittoria consecutiva perché per una squadra neopromossa come il Genoa con la rosa che abbiamo sarebbe un ottimo risultato con Azzoli direttamente in porta si fiora il gol però mi auguro che possa esserci un'altra interessante sfida eh ci sono voci e quindi se un signore sei pronto per il Parlamento no no sono uscito benissimo Portanova Diavara intanto e Koname che fa la sub Graziame segna ancora Diavara 1-0 Genoa grande Amadou grande Amadou il gran lavoro di Manolo Portanova e ancora una volta poi di Yeboah che ci mette sempre lo zampino però là si sta a tutti gli effetti di Portanova che trova il gol di Avara con lo scavetto Portanova destro Manolone Portanova 2-0 nella fine segna assist e gol partita da 10 per Manolo Portanova e meno male che l'abbiamo chiusa meno male meno male senza problemi Giurice l'avete visto io sinceramente non l'ho visto in campo quindi la siamo trovata bene tra l'altro Giurice che non è nemmeno più in campo perché adesso c'è Simi Miligoni Portanova dietro per Andersen oh bel Genoa che gestisce che non forza nulla guarda lì dietro per Vicario va bene così bravi ragazzi mi sa che alla fine la frontale difesa palla al piede non era il massimo per lo stile per i ruoli che abbiamo dato a certi giocatori intanto Portanova ottimo controllo a seguire prova il sinistra questa volta è impreciso Tea bella palla questa per Kevin Yeboah rigorone 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 Gagliolo potrebbero esserci le condizioni per vedere il terzo gol della partita alla battuta di questo calcio di rigore Kofu D'Andersen e trova il 3-0 Genoa 3 Salernitana 0 finisce qui vince il Genoa io invece dico che dobbiamo guardare un attimino come gioca il Nabol vediamo un po' il Napoli Jovic Zieliński Politano Lozano Zambo Anguissa Torreira Di Lorenzo Kulibali Ake Di Allò bene i passaggi nell'ultima partita da parte del Napoli contro il Parma sempre 4-2-3-1 sempre un qui secondo me il lavoro beh oddio il lavoro di Jovic ad abbassare a fare da sponda e poi diciamo un dai vai insieme a Zieliński ci può stare come posizione media occupata squadra che lavora per lo più no in realtà tutte e due le fasce coinvolte squadra con un ampio giropalla ha totalizzato 667 passaggi sono abbastanza ragazzi possiamo lasciare così possiamo lasciare così queste impostazioni questo 11 voglio però ancora dar fiducia a Oliund la posizione da punta completa 4 vittorie una sconfitta questo è l'andamento delle ultime 5 gare il Genoa invece 2 vittorie 3 sconfitte ma è una situazione anche in classifica diversa ma è un Genoa che viene da 2 successi consecutivi cosa non scontata in questo campionato è un Genoa molto vicino alla zona sinistra della classifica l'obiettivo del mister a 20 giornate dal termine del campionato sta per iniziare Napoli-Genoa dai cambiaso lancia Yeboah lo trova Yeboah Ospina salva in calcio d'angolo partitaccio un Napoli attenzione che a livello fisico sta calando ne possiamo ne dobbiamo approfittare nel secondo tempo lasciando però la mentalità equilibrata perché non voglio rischiare più di tanto Corrira Lozzano inserimento perfetto di Zielinski Vicario salva rimessa Genoa perché già che ci siamo ci si prova Puzic Jorgensen Melegoni Diavara stava per diventare l'eroe dei due mondi mamma mia sarebbe stata la terza rete consecutiva per Amadou Diavara a che Lozzano Sar Palo e poi Vicario allontana cambiaso Diavara Oland Puzic Puzic va da solo trova Diavara pallonetto Di Lorenzo poi salva letteralmente la porta del Napoli Politano tutto regolare Politano gol Politano gol Oh fuori gioco aveva ragione nella chat io invece mi ero proprio eh no 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 posizione irregolare da parte di Poli 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 KK Mikitarian Bravo Melegoni Sar Vicario stavo per dire no spero che non cestini l'azione invece lo fa però no attenzione perché Yebova fa una cosa straordinaria preso Puzic sinistro vicinissimo il gol il Genoa con Puzic e al Maradona finisce 1-1 va benissimo così siamo stati oggettivamente fortunati ma non lasciamoci condizionare dalle statistiche perché vedete comunque un XG simile ma chi ti rimporta c'è una differenza enorme però come pericolosità il Napoli è stato leggermente più pericoloso del Genoa ma va bene così ma come punti signori credo il miglior andamento del Genoa dall'inizio della stagione sì sì non era mai successo che in tre partite riuscivamo a fare sette punti c'è un faraone c'è un faraone c'è un faraone effettivamente che potrebbe tornare in quel di Genoa per chiudere la propria carriera da dove tutto era cominciato eh sarebbe anche affascinante romantico no no ok facciamo facciamo i seri offerta di prestito costo futuro opzionale e va bene così e il Sharawi signori torna al Genoa torna al Genoa il ritorno romantico del faraone prestito con diritto di riscatto ma vedremo poi a fine stagione se confermarlo oppure no adesso guardiamo un attimino la scheda del Sharawi vediamo un po' non male probabilmente non male certo non eccezionale però qualità là davanti ne porta ne porta ne porta come mentre arrivano offerte dal Fenerbace e dal Trasmuspor per Maximovic un milione e otto io accetterei questa sarei l'ultimatum allora subito gol dell'ex intanto vediamo perché il Sharawi io lo utilizzerei come punta completa oppure qui al posto di Portanova diciamo che lo si può posizionare sulla tre quarti appunto come seconda punta barra punta completa vediamo un po' lì come si si muove e direi di scendere in campo con questo 11 con questo 11 si perché Kofod squalificato quindi dietro gioca Diavara in mezzo al campo torna Gulixen titolare e andiamo in campo però punta completa avrà comunque libertà di movimento avrà spazio sulla sinistra vediamo di sicuro non credo di farlo giocare 90 minuti quello mi sa che non è ancora pronto attenzione perché l'ultima volta che abbiamo portato una difesa 3 è andata malissimo contro il Bologna speriamo di far bene con la Fiorentina oggi veramente come risultati è un ottimo episodio però sì è la partita effettivamente subito contro la sua vecchia squadra subito palo della viola su indecisione di Cambiaso subito viola che ha sfiorato il gol del vantaggio ma che bello ma che figata ci ho fatto caso solo adesso oh mamma mia ragazzi e qui veramente sveglia FM davvero guardate il colore è dell'ultimo giorno di mercato è giallo nero bellissimo allora partita dove la viola ma in realtà ha ampio possesso pala da parte loro gran partita del faraone esatto non sta facendo assolutamente niente 6 e 2 non è messo benissimo proviamo a fargli fare qualche minuto qui da da trequartista Biawek lo abbassiamo Cambiaso dentro frese e basta Ronningen Jorgensen deve tenere duro ancora un po' Sutalo Rosas uno degli ultimi attacchi del genio in questa partita El Sharawi Giavara non segue Biawek adesso lo segue con un po' di ritardo Biawek si divore il gol dell'1-0 finisce qui tra Fiorentina e Genoa secondo pareggio consecutivo per il Grifone ma la cosa importante è che non perdiamo da diverse partite stiamo continuando a collezionare punti con la Fiorentina così magari anche come con la Juve con Napoli magari non meritavamo questo risultato ma comunque ottimo Genoa Lutrone appunto come ha detto Olmo ceduto definitivamente un giocatore dell'Udinese sarà ceduto definitivamente il 30 giugno 2024 per 2 milioni mi sembra prestito 160 mila poi sì c'è un obbligo a 2 milioni e 9 quindi assolutamente per noi rappresenta una piccola ripeto plusvolenza ancora una volta è un mercato come nella stagione 22-23 è sempre all'insegna dell'equilibrio sempre molto equilibrato vedete appunto a parte la prima stagione dove però non dipendeva da noi però sono sempre state molto equilibrate abbiamo speso quello che abbiamo guadagnato dalle eccessioni ma in questo episodio c'è anche da dire che abbiamo affrontato comunque delle belle squadre due trasferte complicate Napoli-Fiorentina la Juve non era facile ottenere dei punti le abbiamo ottenuti prossimo episodio avremo Udinese Lecce Roma in trasferta anche qui non saranno facili certi confronti ci sarà il derby della Lanterna avremo poi in casa il Torino affronteremo in trasferta il Milan però ragazzi secondo noi possiamo concludere il campionato bene vedo un bel un bel geno la squadra c'è anche sulla tattica siamo intervenuti con delle scelte che per ora stanno portando dei buoni risultati ragazzi oggi è andata è andata bene bene